Non sono proprio le cose semplici che ci regalano i piaceri più grandi? Un bicchiere di vino, un pezzo di formaggio e per finire del pane croccante? Con semplice non si intende tuttavia che questo tipo di cose sia facile da produrre. Il piacere, così come lo intendono e desiderano i vostri clienti, può sfociare solo da prodotti seguiti sin dall'inizio con grande esperienza ed amore da veri maestri capaci della massima perfezione. Per produrre del buon pane e dei gustosi panini è necessaria ad esempio la massima precisione a partire dalla corta preparazione dell'impasto con il giusto tempo e temperatura di lievitazione fino all'infornata proprio al momento giusto. L'automazione in un panificio garantisce maggiore comfort, un migliore flusso dei materiali, una preziosa razionalizzazione del lavoro e soprattutto una qualità sempre ugualmente alta dei prodotti. L'automazione e il suo know-how non affascinano solo per l'impiego di robusti ormai ben rodati sistemi di trasporto. Commive automazione significa in primo luogo la concatenazione intelligente e la sincronizzazione delle singole fasi produttive, dalla preparazione degli impasti prodotti finiti, fino alla distribuzione dei prodotti finiti. Una produzione ottimale necessita di un flusso dei materiali indisturbata intorno al forno per venire al meglio incontro alle vostre esigenze, per poter al meglio considerare ogni tipo di disponibilità di spazio e ogni genere di panificio. Mive rinuncia sin da subito a soluzioni rigide e inflessibili. Il cuore di ogni sistema automatizzato è l'impianto di caricamento Mive Athlete, un compagno affidabile in grado di infornare gli impasti come anche di scaricare i prodotti finiti con la massima precisione. Adatto ad ogni genere di panificio, il Mive Athlete è disponibile in tre versioni. Il più piccolo degli atleti è il Mive Athlete L, progettato in modo specifico per i piccoli panifici e un vero lavoratore instancabile che può caricare un massimo di 18 camere. Il suo punto di forza è la gestione manuale adeguata quando l'esperto panificatore mette ancora personalmente mano. Il caricamento e lo scarico mirato sono la specialità del Mive Athlete XL. Mediante il suo percorso guidato è in grado di posizionarsi in modo automatico davanti alla camera giusta. Sa se un programma di cottura è terminato anche senza l'aiuto umano. Così è sempre al posto giusto, nel momento giusto, per servire una delle 27 camere. Per gli impianti di cottura completamente automatizzati e controllati dal sistema è disponibile il Mive Athlete XXL. Come guidato da una mano fantasma è in grado di lavorare anche in interrottamente. La sua portata consente in caso di doppia struttura di servire fino a 36 i camere in tre forni. Anche la versione piccola del Mive Athlete L fa bene alla vostra salute per caricare gli impasti e possibile posizionarlo in una posizione di lavoro comoda. Il delicato impasto per il pane viene prelevato dal Mive Athlete da un nastro di trasferimento in modo particolarmente morbido. Lo scarico sincronizzato avviene senza alcuna deformazione che possa danneggiare gli impasti. Nel caso si preferisca la cosiddetta raccolta, come di solito viene fatto per la produzione di panini, il raggio ridotto del bordo della lama aiuta a ridurre il più possibile il carico degli impasti. Positivo per il bilancio energetico, dato che una camera viene caricata o scaricata in un'unica soluzione, i tempi ridotti di apertura della porta prevengono grandi dispersioni energetiche. Superfici verticali, sempre preziose, grazie alla sua notevole altezza di carico di 4 metri e 60, offre una superficie di cottura doppia a parità di superficie di base. Il Mive Athlete ha un occhio di riguardo per il vostro budget. Un'automazione coerente introduce nel laboratorio una razionalizzazione efficace e prodotti sempre di alta qualità in negozio. I vostri clienti sapranno apprezzarlo. Un'automazione perfetta significa che la vostra produzione fila liscia come l'olio. Giorno dopo giorno il Mive Athlete è maestro anche in questo, poiché è corredato al meglio della struttura e della tecnologia necessarie per un uso intensivo. Prendete ad esempio il motore a tamburo duplex, dalla cui scatola dipendono l'azionamento del nastro e lo spostamento. Sarà difficile che lo notiate proprio per via della sua affidabilità e solidità. Su richiesta, come per tutti i sistemi di guida, è possibile effettuare la lubrificazione automatica, il tutto senza tempi di fermomacchina. E affinché anche in orizzontale, tutto fili liscio, il Mive Athlete si muove su un sistema estremamente solido e pulito di guide circolari, installato a filo del pavimento e pertanto non pericoloso, realizzato in acciaio inossidabile, temprato, che non teme l'usura. Il comando a cremaliera di provata efficace provvede a cosse laterali rapide e potenti, anche con il funzionamento continuo più intensivo, porta l'athlet sempre in posizione in modo affidabile, veloce e preciso. Anche la corsa verticale è altrettanto precisa, la solida tecnologia di azionamento garantisce un posizionamento esatto e rapido del Mive Athlete, precisa al millimetro. Le superfici lisce e il design funzionale trasformano la pulizia in un gioco da ragazzi. Laddove anche noi non possiamo prevenire il ristagno di farina e umidità, l'affidabile tecnologia di provata efficace garantisce un funzionamento senza problemi, carico dopo carico, senza alcuna manutenzione. Potete dimenticarvi la noiosa pulizia delle camere. Il sistema di aspirazione pulisce a fondo tutta la camera ogni volta che viene effettuato un nuovo carico-scarico, con una cortezza che può solo far bene ai vostri prodotti. Come un vero tuttofare, il Mive Athlete si adegua ad ogni tipo di forno, naturalmente riesce ad esprimersi al meglio in combinazione con un forno Mive, in quanto entrambi parlano la stessa lì. E anche il sistema di convogliamento e di trasporto non è da meno. È sempre preciso sia nello scarico dei prodotti da un impianto di lievitazione, sia nel trasferimento da un nastro di carico. Tagliare, sospingere, girare, umidificare o spruzzare, niente è un problema con il Mive Athlete. Se preferite scaricare gli impasti utilizzando i carrelli per la lievitazione, il Mive Butler è un aiutante impagabile. Non solo carica in modo automatico, quel che serve per la prossima infornata, ma assolve le sue funzioni senza interferire con il funzionamento dell'athlete. Il Mive Butler, per così dire, pogge la mano. Anche i carichi cotti su assi possono essere raccolti automaticamente utilizzando il sistema pick-up. preferite la produzione su teglie o in stampi? Con il sistema di carico per camere estraibili, Mive offre la soluzione ideale. Flessibilità senza compromesso. Altrettanto flessibile la parte di scarico, a seconda del tipo di flusso dei materiali, Mive integra l'adeguato sistema di raccolta. Anche l'uso intensivo della tecnica del freddo non richiede alcuna deviazione. Grazie al sistema di raffreddamento a spirale, il vostro prezioso carico arriva direttamente nel surgelatore a spirale Mive. E naturalmente non lasciamo al caso neanche la sicurezza del vostro panificio. Solitamente il Mive Athlete è provvisto di dispositivi di sicurezza, come griglie di protezione, oppure meno visibili ma altrettanto efficaci, barriere fotoelettriche. Mive propone tre tipi di controllo adatti ai diversi sistemi di carico impiegabili nei panifici. Il controllo standard viene impiegato nel Mive Athlete XL e gestisce tutte le funzioni di base dei sistemi di carico-scarico in modo affidabile e preciso. È sufficiente selezionare una camera e il Mive Athlete la raggiunge in automatico, carica o scarica i prodotti e ritorna nella posizione iniziale. In combinazione con un forno Mive, il Mive Athlete può anche avviare automaticamente il processo di cottura. Il percorso guidato è adatto al Mive Athlete XL e XXL e con i suoi automatismi arricchisce il panificio di ulteriori comfort, consentendo il carico automatico di 27 camere. Complesse sequenze di lavoro vengono riassunte in un unico ordine. Dal trasferimento e l'infornata del carico, allo scarico automatico non appena il forno emette il segnale di fine cottura e la raccolta dei prodotti finiti. È sufficiente la semplice pressione di un pulsante e il Mive Athlete provvede a prodotti perfetti. Il controllo del sistema adatto al Mive Athlete XXL offre il comfort totale di un impianto completamente gestito da computer. È sufficiente selezionare solo un programma di cottura e la camera di destinazione mediante il touchscreen, facile da pulire, e il resto va in automatico. Il forno imposta il programma di cottura prescelto e il Mive Athlete in forna e scarica spaccando il secondo. Anche le lavorazioni intermedia automatizzate, come la spruzzatura intermedia, vengono eseguite durante la cottura con la massima precisione. Questo controllo consente la gestione centralizzata di massimo 5 forni e dell'intero sistema di trasporto e di carico. Come da un quadro di comando, è possibile richiamare lo stato attuale di tutto l'impianto. In tal modo, il responsabile del panificio è sempre informato di tutto. Il controllo consente la creazione o la modifica dei programmi di cottura in qualsiasi momento, come anche la gestione delle accensioni notturne. Nonostante l'alto livello di automazione, è sempre possibile intervenire anche manualmente. Naturalmente ogni componente è provvisto anche di un proprio controllo. In caso di avaria del controllo di sistema è quindi possibile continuare la cottura senza alcun problema. Il caso del panificio Nashtet di Meiningen Il cuore dell'impianto per la panificazione è costituito da 4 Mive Ideal e da un atlet XXL con controllo di sistema corredato dal sistema totale Mive Cap con diagnosi e manutenzione remota integrata e con la possibilità di effettuare valutazioni statistiche. Mediante l'interfaccia Bakelink, al cui sviluppo ha collaborato anche Mive, è possibile collegare in rete i sistemi Mive con il sistema CapTool della Toolbox Software. Questo consente la gestione remota e il controllo dall'ufficio di tutto lo svolgimento della produzione, dalla creazione degli impasti alla spedizione. Ogni giorno viene definito un vero piano produttivo e la comunicazione aziendale avviene praticamente solo via monito. Il nostro sistema automatico di carico e scarico ha migliorato in modo determinante l'uniformità della qualità del pane dei panini prodotti. In combinazione con CapTool siamo riusciti a gestire tutto, dalla preparazione dell'impasto alla lavorazione, alla cottura, al prodotto finito. Abbiamo incrementato incredibilmente la qualità e il sistema funziona in modo eccellente. Siamo molto soddisfatti. Il sistema funziona in modo eccellente. Il sistema funziona in modo eccellente. Il sistema funziona in modo eccellente. è un sistema funziona in modo eccellente. Il sistema funziona in modo eccellente.